Ciao ragazzi, allora questo è un videoblog girato in diretta da Trieste In questo momento siamo in barca che tra un po' sarà messa in acqua Siamo nel porto Ecco, questa è una specie di gru che sta caricando la barca per posizionarla appunto in acqua Ecco, questa è la struttura, come vedete è molto grande Queste sono le ruote e ci vediamo dopo quando saremo in acqua Allora ragazzi, qui vediamo ancora la barca che sta per essere preparata le stanno mettendo in questi lacci laterali per posizionarli in acqua e come vedete tutto attorno ci sono le altre barche che sono qui per i lavori di manutenzione quindi per colorare il fondale per tappare i vari buchi che ci sono insomma per fare lavori di manutenzione e questo attorno al mare se ci fosse un po' più caldo sarebbe bello andare a farsi un nuotato ovviamente non nel porto ecco, volevo filmare più che altro già direttamente dall'acqua però nel momento la barca non è ancora pronta e ci provo più tardi ecco, questo è il momento vero e proprio che l'ho messa in acqua stiamo a vedere aperto parentesi sto disperatamente cercando un palo qui nel botto devo poter andare a trattare ma non trovo niente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sto facendo un video per l'iPhone adesso manca poco grazie a tutti non c'è non c'è bene, siamo ufficialmente in acqua è la fase finale della discesa bello bello sai? va bene scusare il cuore il cuore rossi Allora ragazzi, adesso siamo nel mare, come potete vedere queste sono le onde, questa è la moto d'acqua, posso dire, in un paese anche più costante, adesso proviamo a fare solo giù su queste cose piccole, mamma mia come si muove, è giusto, si fa buona mattina, non riesco a fare lo giù perché si muove un po', magari dopo ritrovo la ferma, c'era anche l'altro lato, anche bella questa. Ok, Lorenzo è la persona dell'alto. Torna c'è solo il mare. Allora, 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 allora. Allora, allora, allora. Buongiorno. Buongiorno. ecco ragazzi è tutto mi saluto mi saluto mi saluto mi saluto